amici questo è il decimo episodio della serie di fasmofobia vado a prendere il cocefisso ok non cammina sul salvo ed è molto timido, non c'è un cazzo, niente mf non è che è un mime cazzo non c'ho la tega la temperatura di congelamento? non scrive nemmeno è strano che non risponda cioè nel senso adatta prendiamo i dozzi bravo che cazzo è? ma ha fatto un double fire è stato in dozzi è stato in dozzi no viziero è vero e te hai trovato una cosa? non ancora vado a prendere la sanitaria vado a prendere la sanitaria che cazzo c'ho? trovo la dolce è vero parolace aspetta panneggiamo un attimo a quanto? cosa? l'accendino ce ne due? no mf5 sicuro? è una prova abbiamo una prova amore quindi non è il phantom temperatura? è sempre sopra il zero l'ho fatta l'ho fatta l'ho fatta ma la dozza ha rilevato qualcosa? cazzo è un V8 ma perchè non cammina sopra ai cosi? non cammina è un V8 si si è un V8 possiamo andare? è un V8 si che foto che ho fatto? si cazzo! è il mio primo crit pure madonna ma in seconda si ma io non vedo niente non lasciate tutto acceso si hai capito? è una prova di congelamento qua dove andai? dietro dietro qua ha fatto un po' una fiatella no è un pungo di luce no è un pungo di luce Ma occhio alla sanità che qua non so qui c'è un piede Perché se la stanza è buon zitto lo sangue Che è? Ma stai proprio a parlargli, dove sei? Sei amichevole? Ma hai fatto con un occhio? Ma stai sì, dove sei? Sei amichevole? Adio, fremmoli Fagoff Senti, non mi risponde, sono un gioco a sedocchiere Si è camminato sul sala Che facevo, risponde da rispondere, non si non si deve dare Precifisso è andato Non c'è, presto, torniamo indietro Prendiamo avanti il crocifisso, vieni Stiamo prendendo avanti il crocifisso Prendendo avanti il crocifisso, vieni Senti, non mi risponde, non si deve fare Senti, non mi risponde, non si deve fare Senti, non mi risponde, non mi risponde, non mi risponde, non si deve fare 4. Hai chiuso le porte e non ci stanno in pronte, quindi niente oltre che letto. Sfere di luce, puntatore e congelamento. Cioè se tu hai visto congelamento, ok. Sì, quando sono da me stavo a meno 4. Gennaro ha visto la storia di luce e l'ho visto con quei dozzi. Non potete capire una paura che mi so preso, mamma mia, me lo so visto in faccia, io non so... Appena siamo andati poi walk me, c'è un po' ammazzato. Nello G.A. ce l'ha scritto che l'incenzo lo intrappolava ma nella stanza quindi maffiato subito. Sfere. 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 Sfere.